Da seconda punto di esterno per me cambia poco, so adattarmi e cerco di offrire sempre un contributo alla squadra. Anche in questa nuova stagione dovremo studare tanto per conquistare l'ambita salvezza, ma percepisco che ci sono presupposti importanti considerati i tanti arrivi di qualità in squadra. Alexander Ratonev, attaccante bulgaro del Crotone, guarda con fiducia il nuovo campionato e si dice pronto a interpretare qualunque ruolo per il bene della squadra rosso-blu. Io ho cercato di trainare tutti i giorni, per questo mi sento bene, per questo mi spiega bene. Dobbiamo pensare al primo gioco, l'Italian Cup, poi pensiamo al primo due gioco, il gioco gioco per Milano e Verona, e poi pensiamo al mezzo nazionale. Ciao tutti, ciao tifosi rosso-blu, ci vediamo a sabato Allo Stadio. Allo Stadio